e benvenuti in paradiso esattamente nel paradiso degli sposi dove avrai la possibilità di trovare l'abito che hai sempre desiderato a prezzi imbattibili seguici e per il giorno più bello del tuo matrimonio se hai sempre pensato che per avere un abito da sposa eccezionale dovessi spendere tanto bene vogliamo felicemente sventirti perché grazie al paradiso degli sposi potrai indossare l'abito che hai sempre voluto a prezzi imbattibili vuoi un esempio abiti da sposa a partire da soli 600 euro hai difficoltà a trovare il tuo abito da sposa o da sposo perché qualche chiletto in più sta cercando di un po ostacolare la tua scelta nessun problema perché grazie al paradiso degli sposi potrai trovare anche degli abiti per taglio forti perché non sarà di certo qualche chiletto in più a rovinare la tua meravigliosa bellezza e caro sposo abbiamo voluto pensare anche a te perché quel giorno possa essere unico bellissimo come meriti grazie a degli abiti imperdibili a dei prezzi veramente ineguagliabili vuoi un esempio abiti da sposo a partire da soli 400 euro se anche tu hai qualche chiletto in più non ti preoccupare perché grazie al paradiso degli sposi troverai taglie fino alla 75 e una volta scelto l'abito dei tuoi sogni potrai sfoggiarlo in questa incredibile passarella davanti alle persone a te più care che insieme a te si emozioneranno per ricordarti quanto sei bella e grazie al paradiso degli sposi all'interno potrai avvelerti anche dell'aria sartoria dove poter effettuare tutte le modifiche necessarie o addirittura se lo desideri creare proprio dall'inizio l'abito che sempre desiderato per cui basterà semplicemente dirci che abito vuoi e lo realizzeremo apposta per te come sempre voluto e il paradiso degli sposi ha voluto pensare anche agli invitati che con poco più di 100 euro potranno trovare dei abiti meravigliosamente belli potrai vestirti benissimo a prezzi imperdibili anche nel tuo quotidiano grazie alla linea casual in modo particolare abbiamo voluto pensare anche alle taglie forti perché qualche chiletto in più non potesse compromettere la tua straordinaria bellezza e anche i più piccoli le meravigliose creature che magari quel giorno saranno le damigelle o comunque saranno degli invitati particolarmente apprezzabili potranno indossare degli abiti incredibili sempre grazie al paradiso degli sposi e tra gli eventi da festeggiare non possono mancare i tuoi 18 anni anche per questo evento abbiamo voluto pensare degli abiti veramente unici a dei prezzi imperdibili tante volte capita che qualche chiletto in più ti impedisca di vestirti bene soprattutto di trovare degli abiti per te questo problema verrà risolto grazie a frizzante mode al paradiso degli sposi dove potrai trovare qualsiasi tipologia di capo a taglie veramente incredibili come la 75, la 7XL, magliette, giubbini addirittura dei pantaloni dove finalmente anche tu potrai dire nonostante qualche chiletto in più sono ancora più bello sei ancora convinto che per vestirti bene devi spendere tanto? bene allora vienici a trovare qui presso il paradiso degli sposi e non solo perché finalmente per qualsiasi occasione potrai trovare l'abito che hai sempre desiderato così non potrai dire e se solo vi avessi conosciuto prima adesso ci conosci vieni a trovarci ti sfidiamo troverai i prezzi più bassi e i vestiti più belli